Ciao, sono Luigi Cozzi, finalmente disponibile anche qui in Italia il mio film Star Crush, ovvero scontri stellari oltre la terza dimensione. Con la bellissima avventuriera galattica Stella Star, in compagnia del suo amico alieno Acton dagli strani poteri, lottano per difendere l'imperatore dell'universo, dalle mire malvage del perverso conte Zart-An, che si avvale dei robot golem potentissimi e micidiali, golem mostruosi e meccanici che insidiano la salvezza dell'universo. Scontri stellari, una corsa frenetica attraverso il cosmo e l'iperspazio, dalle stelle perdute fino al pianeta delle Amazzoni, Arrakis, fino al mondo delle grandi macchine e dei trogloditi. Scontri stellari, la saga cosmica folle e scatenata che ha ispirato i guardiani della galassia. Non perdetelo!